Dunque il direttore generale in pectore Andrea Iaconi ha scelto panchina al trevigiano Bruno Tedino. Giovedì incontro a Bologna, ieri la firma. Accordo biennale e totale. Carta bianca sul mercato da parte del neoproprietario del club bianco-rosso Franco Iacchini. 55 anni il prossimo 13 agosto. Grande esperienza. Ultime due stagioni nel Palermo del vulcanico Maurizio Zamparini e Sardin B. con altrettanti esoneri. Il primo a quattro turni dall'epilogo dopo essere stato campione d'inverno al termine del girone di andata. Il secondo alla quinta giornata del torneo testè consegnato agli archivi. Tedino è un uomo di campo a 360 gradi. Dovrà dare un impulso importante e un'impronta anche nel settore giovanile che Iaconi intende rilanciare. Una sorta di manager a tutto tondo. Il punto più alto in carriera nel Pordenone. Biennio 2015-2017. Due semifinali play-off per la promozione in B. Perse contro il Pisa di Gattuso e l'anno successivo ai rigori contro il Parma di Roberto D'Aversa. Profondo conoscitore della categoria e dei calciatori. Propensione ad allenare i giovani. Due gli incarichi di prestigio a lui conferiti dalla federazione dal 2013 al 2015 come tecnico dell'Under 16 e vice l'anno dopo dell'Under 17. Tra C1 e C2 ha allenato oltre al Pordenone, Sandonà, Novara, Sio de Tirol, Pistoiese e San Giovannese. Iaconi ha giocato d'anticipo sul Venezia del neo-DS Fabio Lupo che aveva lavorato con Telino a Palermo nella stagione 2017-2018. Tecnico dalla mentalità propositiva, ma duttile. Si adatta infatti al materiale umano a sua disposizione, anche se il meglio lo ha dimostrato col 4-3-1-2 tendente al 4-3-2-1. In bocca al lupo!